ALEKS ALEKS Sì, sì, la mamma del bambino ucciso ha offerto 3.000 dollari a chi ucciserà. Ma tu ho veramente un ucchio di soldi. Questo è allarmismo. Basta, lasciamo perdere. No, questo non è allarmismo. Bisogna parlare con la signora Kitterer. Sta diventando una specie di concorsa premica. Ma non siamo solo noi della Gazzetta, ne parlano i giornali di mezza mese. Tra poco la gente correrà tutta qui per quei 3.000 dollari. Venite di là, c'è più spazio. Il responsabile della sicurezza pubblica sono io, no? Domani vai alla spiaggia e vedi che la gente non corre a pericolo. Martin, Martin. Io lo devo pubblicare. Vuol dire che lo nasconderò. Lo metterò in una pagina interna accanto agli annunci pubblicitari. Bego, venite. Venite. Accomodate. Certo che fare il sindaco può essere una vera secca città. Sì, certo, signora. Intanto si accorre. Sappiamo che lei farà tutto il possibile. Grazie. L'importante è che non ci facciamo prendere da un panico. Sì, signora, naturalmente. Se c'è un pericolo reale, non possiamo ignorarlo. Senti, io la vedo in un certo modo e credo che la vedano così anche molte altre persone. Per forza. Tu non pensi che gli affari al motel è in piena stagione? No, non lo dico perché penso al mio motel. Lei che ne dice? Che non bisogna spaventare la gente. Signori, un po' di silenzio. Un po' di silenzio, per favore. Qualcuno vuole fare domande? Sì. Quei 3.000 dollari del premio sono in contanti o in cambiali? Spiritoso, ci gioca pure sopra quell'imbecille. Silenzio, silenzio. Questa è una faccenda privata fra voi pescatori e la signora Kintner. Martin, ti dispiace dire qualcosa? Sentiamo cosa dice Brody. Io, io voglio soltanto dirvi che cosa abbiamo intenzione di fare. Per quello che riguarda le spiagge. Assumeremo degli agenti per l'estate, altri agenti appena sarà possibile. Sì, giusto. E poi vogliamo anche mettere degli avvistatori di squali sulle spiagge. Avete intenzione di chiudere le spiagge, vero? Sì, esatto. No. Silenzio. Abbiamo intenzione di far venire dal continente un esperto dell'istituto oceanografico. Solo per 24 ore. Io non ho detto questo. Solamente per 24 ore. Per voi, fate tutte le cose che ci fanno. Mi conoscete tutti. Sapete come mi guadagno la vita. Vi prenderò io quel pesce e non sarà uno scherzo. È una brutta bestia. Non è come andare a pesca di sardine o di marluzzi. Questo è uno squalo che ti si mangia vivo, ti addenta, ti dà una strezzata e sei fatto. E va ucciso alla svelta per non far scappare i turisti prima che li abbiate spennati ben benino. Ma non sarà facile per niente. E la mia pelle vale molto più di 3.000 dollari, capo. Io per 3.000 dollari ve lo trovo. Ma per prenderle e ammazzarlo ne voglio 10. La decisione spetta a voi. Se volete fare affari quest'estate, alzate il premio. Oppure fate gli spilorci e passate l'inverno a piangere. Non ho bisogno di nessuno, niente volontari. Ci sono già troppi comandanti su quest'isola. 10.000 dollari per me e per me solamente. E io vi porto la testa, la coda e tutto quello che c'è in mezzo. La ringraziamo molto, signor Quint. Ma vorremmo che ci lasciasse un po' di tempo per... Signor sindaco, capo, signore e signori. Oddio, che paura mi hai fatto. Sai, Ellen, gli squali non si sa nemmeno quanto vivono. Se vivono 10, 100, 1000 anni. Martin. Non lo sanno. Adesso basta. Basta. Che poi non riesci a prendere sonno neanche stasera. Tieni. Grazie. Ci sbronziamo e facciamo follie? Ah, sì. Mike è così contento di quel bel regalo. Dov'è? Ci sta seduto dentro. Oh mio Dio. Perchè arrabbiare? Sono io che mi arrabbio, se insisti. Michael, esci da quella barca! Ma è legata al molo! Ci sto dentro e basta! Io gli faccio compagnia! Fuori da quella barca! Dai, papà! Un altro po'. Per piacere! Martin, ma è il suo compleanno domani. Non voglio che stia in acqua! Ma non è in acqua, sta soltanto in barca. Non ci va, sta tranquillo. Figurati se c'entrerà più dopo quello che è successo ieri mattina. Va bene, Ellen, lasciamo stare. Non voglio che abbia paura dell'acqua. Voglio solo che conosca le regole di navigazione prima di uscire in mare da solo. Michael, hai sentito tuo padre? Su, avanti, vieni via! Avanti!